La notizia di oggi è martedì 8 novembre. Buongiorno da Giorgio Galinari e benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Andiamo subito a leggere insieme le notizie di oggi. Iniziamo dalla prima pagina della Repubblica e qui in apertura America. La grande paura. Ilari risale nei sondaggi. Obama, scegliete lei come avete fatto per me. Vincerà anche questa volta l'irrazionalità, il gesto clamoroso e disperato contro un mondo da cui ci si sente dimenticati e esclusi. Il modello Brexit inciderà anche le pianure americane o un sussulto di razionalità riuscirà a tenere a bada gli spiriti selvaggi che soffiano a ogni latitudine. Se guardiamo al voto di oggi con il fiato sospeso è perché il rischio di una rottura storica è reale, perché ciò che sembrava impossibile e quasi ridicolo ha preso forma e consistenza. Tanto che il presidente in carica nell'ultimo giorno di campagna elettorale è stato costretto a correre in Michigan, New Hampshire e Pennsylvania. E ancora gli operai tentati da Donald. Il racconto all'interno. Ricordatevi in che stato eravamo otto anni fa. Date a Ilari la fiducia che allora avete avuto per me. Barack Obama si lancia nel suo ultimo tour de force elettorale con un po' di commozione. Anche a centropagina la fotonotizia. Barack Obama ieri durante un discorso all'Università del Michigan. E ancora la storia. Barack la sinfonia incompiuta dell'uomo che sapeva sognare. E ci spostiamo poi in Italia. L'Unione Europea. Juncker sfida l'Italia. Ci attacca e me ne frego. La manovra italiana fa salire la temperatura tra Roma e Bruxelles. L'Italia sbaglia ad attaccarci. Non otterrà risultati. Tuona Jean-Claude Juncker che accenna anche ad un mene frego. Nei confronti di chi accusa la commissione di austerity. Nessuna polemica ma sui soldi per la stabilità nelle scuole non guardiamo in faccia nessuno. Nel 2017 metteremo il vetto sul bilancio dell'Unione Europea. Replica Renzi. E ancora il retroscena. La ragione e l'azzardo. E scendiamo poi in taglio basso. La rivolta delle donne comincia alle 16.34. Il gap dei salari in Francia. Dal 7 novembre fino al 31 dicembre le donne francesi lavoreranno in perdita perché hanno un salario anno inferiore al 15,1% rispetto agli uomini. E poi la privacy in classe. Dalla pagella alle gite. Il garante su foto e video. La foto della gita scolastica postata su Facebook. La chat con le mamme per informarsi sulla recita all'asilo. Il menu della mensa con la pietanza esotica su Instagram. Un clic e tutto finisce in rete senza pensare se sia lecito o meno. Ora il garante per lei privacy dà una lezione a scuole, famiglie e alunni per richiamare tutti a una maggiore consapevolezza nel trattamento dei dati personali. E' nato per questo a scuola di privacy il vademecum elaborato dall'autorità che sarà inviato a tutti gli istituti pubblici e privati. Dopo questa notizia ci spostiamo sul web dove ci sono altri aggiornamenti ancora sul terremoto. C'è stata una scossa di magnitudo 4 nel maceratese. Un terremoto di magnitudo 4 è stato appunto registrato nella provincia di Macerata alle 19.56 con epicentro fra Castel Sant'Angelo sul Nera, Visso, Ussita e Precil. Il sisma è avvenuto a 13 km di profondità ed è stato avvertito in un'area molto vasta fino ad Ancona e a Scolipiceno. Mamma mia ma qui viene giù tutto, se andiamo avanti con scosse così il paese mi sa che fra un po' non c'è più, ha detto il sindaco di Castel Sant'Angelo Mauro Falcucci che era a Civitanova a parlare con gli sfollati. La nuova scossa non l'ha sentita, su non c'è più nessuno, forse il vice sindaco che stava a sistemare i moduli. Chissà che paura che si è preso, non posso dire che ormai è triste ma un terremoto forza 4 lo conosciamo, aggiunge il sindaco di Visso Giuliano Pazzaglini da Porto Sant'Elpidio dove era andato a trovare gli sfollati negli hotel. Con il buio è difficile capire se il sisma abbia provocato nuovi crolli. Ancora sul terremoto ci spostiamo a Norcia, sono state coperte metà delle rovine della Basilica, sono coperte praticamente per metà da grandi teli neri, le rovine della Basilica di San Benedetto a Norcia, quasi interamente crollata dopo il terremoto. Approfittando anche della tregua concessa dal mattempo, i vigili del fuoco hanno continuato l'intervento, collocando una intelaiatura in legno sulle rovine e sulla quale vengono posti i teli per proteggere ciò che resta della pioggia e del vento. E' un'operazione che proseguirà così come il recupero delle opere d'arte all'interno. Continua anche la messa in sicurezza della torre civica del municipio accanto alla Basilica. Personale specializzato ha proseguito le operazioni di cerchiaggio, utilizzando delle fasce in particolare poliestere e metallo, interventi dei vigili del fuoco anche per la messa in sicurezza delle vie d'accesso della zona rossa di Norcia per il recupero dei beni dalle abitazioni danneggiate per coprire parte di esse. E ancora sul terremoto i sindaci in aula non abbandonateci e Boldrini rassicura. Sono state circa 30 le scosse di terremoto di magnitudo non inferiore a 2 registrate dalla mezzanotte tra Marche, Umbria e Lazio, tutte di magnitudo non superiore a 3. Non si registrano ulteriori crolli. Ieri, nello stesso arco di tempo, da mezzanotte alle 7, le scosse erano state circa 90. In serata, alle 19.56, si è registrata una scossa di magnitudo 3.8 e non 4, come detto in precedenza, con epicentro a Cassel Sant'Angelo sul Nera, a Macerata. Oggi in commissione bilancio al Senato gli interventi urgenti post-sisma del 24 agosto del 2016. I sindaci del terremoto lanciano un appello alle istituzioni per non essere dimenticati, almeno dopo la prima fase dell'emergenza. L'occasione è quella del secondo incontro istituzionale organizzato insieme a Lanci e alla Camera, che ha visto un drappello di oltre 600 primi cittadini, quasi tutti con fascia tricolore, occupare gli scranni di Montecitorio. L'angoscia dei territori l'ha espressa il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che ha confessato che nel suo intervento di percepire un senso di abbandono, pronta la replica della Presidente della Camera Boldrini, noi confermiamo il nostro impegno, non vi lasceremo soli e faremo di tutto per tenere viva l'attenzione generale. Ci spostiamo ora sul litorale romano, la tromba d'aria, due morti, sono state aperte le inchieste galletti. A Roma mancata manutenzione della città, disagi e vittime per il maltempo nel centro Italia, strade allagate e code oggi a Roma, nuovamente colpita dal maltempo. Ieri due persone sono morte per le conseguenze di una tromba d'aria sul litorale romano. La Procura di Roma e di Civitavecchia hanno aperto fascicoli processuali sulla vicenda, procedendo senza ipotesi di reato e senza indagati. I primi atti delle due inchieste saranno costituiti dall'esecuzione delle autopsie sulle vittime del violento evento meteorologico. La Dispoli chiede lo stato di calamità in discesa ai livelli dell'Arno. E a Roma una mancata manutenzione della città, botta in risposta tra il Ministro Galletti e il Comune di Roma, sulla manutenzione della città, in particolare degli alberi. E dopo questa notizia ci spostiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera e anche qui in apertura, America, l'ora della scelta. Clinton e il lieve vantaggio nei sondaggi. I mercati dopo la retromarcia dell'FBI sul caso e-mail. L'America vota per il 45esimo presidente Hillary o Donald della democratica Clinton o l'outsider miliardario Trump, forte anche del sostegno di Obama. La prima è in testa nei sondaggi. Un distacco corroborato dalla decisione dell'FBI di non procedere oltre nell'affare dell'email di Stato. La svolta nell'indagine ieri ha spinto i mercati finanziari di Mezzomondo rally a Wall Street. E poi l'analisi. La sfida maschi-femmine all'interno sarà la più grande partita maschi-femmine della storia. Se votassero solo gli uomini, Trump sarebbe eletto trionfalmente con il 47% contro il 42%. Se poi votassero solo i bianchi, vincerebbe con percentuali bulgare. E ancora sull'autostrada che proclamerà il presidente, ancora sull'America. E poi in taglio basso la fine di Pierino ucciso a pugni per caso a Roma. Morto l'ex carabiniere colpito per strada. L'aggressore, non so perché, ero ubriaco. È morto dopo 16 giorni di coma Pierino Franchi. Il settantenne ex carabiniere è stato picchiato senza motivo nella notte del 21 ottobre scorso da un aspirante pugile di 24 anni, David Giannelli, frequentatore del ring e di una palestra vicino casa nel quartiere di Vignenove a Roma. Non so perché l'ho fatto, ha detto l'aggressore. Non me lo ricordo, ero troppo ubriaco. Forse mi ha guardato storto. E poi una notizia sull'Italia digitale, il debutto per R1, il robot italiano debutta a Italia digitale, l'R1 che vediamo qui appunto in foto. Il robot dell'Istituto Italiano di Tecnologia, la due giorni del Corriere sull'innovazione che prosegue oggi. L'articolo continua poi all'interno. E dopo questa notizia ci fermiamo per pochi istanti. A tra poco. Grazie. 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 Grazie.